Ciao ragazzi, io sono Red e benvenuti allo speciale di Halloween. Come potete vedere sto facendo il cosplay di quello di Resident Evil 2, non mi ricordo come si chiama il protagonista, però è lui. Fermi. Chi è questa persona? Scusate, eh. Ho sbagliato, non cominciate a scrivermi nei commenti che non capisco un cazzo. Non è il protagonista di Resident Evil 2, ma di Silent Hill 2, James Sunderland. Ho detto una cappella, visto che però vi ho già interrotto, vi ricordo di arrivare a 300 mi piace nei commenti, perché stiamo lavorando al video della stanza, ma dobbiamo comprare un botto di roba per finire di metterla a posto come piace a me. Quindi se ci arriviamo a 300 mi piace, mi fareste A molto contento e B ci aiutate a finire questo cazzo di video che sta venendo mastodontico e su cui stiamo lavorando già adesso. Quindi grazie per il mi piace e torniamo al video. E adesso che l'abbiamo fatto posso togliermela perché c'è caldo. Quest'anno vi portiamo un contenuto veramente speciale, ovvero creeremo il setup perfetto per sopravvivere a un'apocalisse zombie. Prima però, sigla. Prima di farvi vedere esattamente tutti i pezzi che compongono questo nuovo e incredibile setup, vi faccio vedere la patch del giorno, gentilmente offerta da Wargasm, Wargasm? Offerta da Wargasm, dei Parabellum, ed è questa bellissima, mettimela a fuoco, esattamente, From Towards Enemy. Molto molto figa, è come la Claymore che ha quella stessa scritta. Qui al Monopoly non badiamo a spese, è per questo che oggi vi vogliamo far vedere il miglior tipo di pantalone tattico mai creato sulla faccia della terra. Hai mirato apposta la faccia, vero? Il jeans claw gear. Ragazzi, questi pantaloni sono fenomenali. Adesso ve li faccio vedere e hanno soprattutto una features essenziale. Mi allungerebbe un caricatore da M4. Vedete questa pratica... Vedete questa pratica taschina? Può essere utilizzata per infilarci un caricatore extra che nessuno noterà, capite? Ma è necessario? Chi li ha toccati? Potete utilizzarla per nascondere, come vedete, un caricatore da estrarli direttamente dal marsupio da galera. Adesso, grazie alla magia del montaggio, io li avrò già indosso. Ragazzi, sono veramente comodi e fatti veramente benissimo. Mi piacciono un sacco. Ora che abbiamo i pantaloni giusti per poter correre, scattare, rotolarci in mezzo alla ghiaia senza temere, ci serve però qualcosa che ce li regga in posizione, altrimenti ce li ritroviamo a mezza gamba. Appunto per questo abbiamo una bellissima cintura, grazie, claw gear, con attacchi molle tagliati al laser e clip cobra. Perché forse potevamo allestire tutto subito e farci vedere già vestiti. Ah, il bello della diretta. Giuseppe! Tommaso! Perfetto, ragazzi. Ora io l'ho chiusa, ma in realtà manca una parte importante, perché non potete andare in giro con la maglietta degli X-Off di Metal Gear Solid. Ci vuole qualcosa che si adatti bene all'ambiente urbano, ma allo stesso tempo gridi tactical. Ed è questa bellissima combat shirt flanella della Invader Gear, perché noi ci trattiamo bene. Bene, adesso che assomiglio vagamente a quello di American Sniper, quando era un Illy Billy che cavalcava i puledri nel range, possiamo passare alle cose più interessanti del tattico, ovvero un bellissimo portacaricatori rigido. E voi direte, a cosa ci serve un portacaricatore rigido se non hai neanche la fondina? A questo proposito, infatti, noi abbiamo una bellissima fondina, al cui interno c'è una stupenda pistola perfetta per lo scenario a cui ci dobbiamo preparare. Wow! Manca solo una cosa, no? Ve la faccio vedere da vicino, è una bellissima hiccupa con una canna che fa sb***e. Guardate che figa! Ragazzi, vedete, si muove solamente questa parte del carrello superiore e questa qui rimane ferma, quindi vi permette di sparare un pochino più accuratamente. Molto molto figa, ragazzi, è veramente croccante, sembra un misto tra la pistola di Lara Croft e quella che usano in Resident Evil. Parliamo brevemente della fondina, è molto molto bella, soprattutto perché è universale, quindi ci stanno dentro praticamente tutte le pistole. È rigida, quindi non è una di quelle molli che rischiano di farvi perdere la pistola da qualche parte. Come vedete rimane bloccata, appena andiamo a premere questo tastino qua possiamo estrarre. È molto molto comoda, infatti l'ho appena inclusa in uno dei miei setup perché permette di utilizzare vari tipi di pistole e non dover quindi fare tutti sti cambi sul vostro cinturone o comunque dove ve la attaccate. Il port a caricatori è molto comodo perché è regolabile, quindi non è che si adatta solamente a un tipo di caricatore, potete estrarre in maniera semplice e allo stesso tempo rimangono fermi dove devono. Bene, ora che abbiamo finito di agghindare la nostra War Belt però ci serve qualcosa che protegga il nostro busto ma soprattutto ci permette di trasportare i caricatori e tutte quelle piccole cosine che ci serviranno per difenderci dall'orda dei non morti. Quindi grazie mille. Bene, questo è un mini ring della Helicon Tex. Triggered. Signora. Triggered, oddio! E' molto molto figo ha i port a caricatori per la pistola perché non avrete mai abbastanza colpi per difendervi da quello che c'era fuori e ovviamente anche i port a caricatori. Io adesso me lo infilerò in questo nuovo modo che ho imparato. Tada! Dobbiamo aggiungerci ovviamente alla nostra bellissima patch del giorno che ci protegge i testicoli. Come potete vedere è molto comodo e leggero, vi permette di scappare dai famelici non morti e allo stesso tempo essere abbastanza protetto e muovere in maniera tattica in mezzo ai sopravvissuti che vogliono le vostre risorse. Ovviamente però mancano dei buchi quindi io direi di andarli a riempire con una bellissima patch Zombie Hunter Department di World War Z. Molto molto carina questa e l'attacchiamo sul braccio. E ovviamente è qualcosa che sponsorizzi il posto che ci sta fornendo tutta questa bellissima attrezzatura. Monopoly Soft Air Link in descrizione. Bene, ovviamente sarà necessario riempirlo con le cose che mangia il nostro fucile che sono i... Diciamo tutti insieme? I proiettili. Esatto. Dove sono i proiettili? Sono qui! Ottimo! Adesso che abbiamo il tattico pieno dobbiamo trovare il modo di oscurare la nostra identità in modo tale che chi vuole vendicarsi non possa trovarci. Grazie mille! Adesso siamo cattivi e incazzati. Bene, ci servirà adesso qualcosa per proteggere i timpani. A forza di sparare agli zombie rischiamo di diventare sordi. Quindi questo è delicatissimo. Perfetto. Sono belle e calde, le hai tenute nel borsello da galera anche tu? Ovviamente io non ho la radio, quindi non sento un... Però sono perfette e ci permettono di metterci in contatto con i possibili aiuti o sopravvissuti che hanno bisogno di aiuto. E state sempre contenti perché ci sono pericoli in agguato da tutte le parti. E state sempre... Bene, terrò le cuffie così anche se sembro topolino perché se no non sento e non riesco a ottegarvi le cose. Ci serve come ultimo punto ovviamente lo strumentopolo che ci servirà per sopravvivere all'interno delle wasteland. Quale sarà quindi il fucile che utilizzeremo per sopravvivere all'interno del mondo post-apocalittico? Beh, niente, un po' di meno che il Black Rain serie limitata introvabile di Resident Evil. È veramente bellissimo ragazzi, oltre ad essere praticamente introvabile e poi direi che è la scelta perfetta per questo setup in quanto è effettivamente il fucile di Resident Evil. Bene, come potete vedere il setup è praticamente completo, stupendo, speciale, bellissimo. L'unica cosa che manca adesso che è presente in qualunque tipo di film, serie televisivo, videogioco, cosa post-apocalittica è la maschera antigas. Indispensabile amiga che ci permetterà di evitare di farci infettare dai fumi tossici, dai cordyceps, dai peti tossici di Giuse. Insomma è perfetta. Quindi chiedo alla valletta di allungarmi lo strumentopolo finale, che lo strumentopolo finale potrebbe essere un nome sostitutivo di White Game. Non ce l'ho più chiamato. Ce l'hai chiesto? Beh, stambi nel video. Perhaps you were wondering. Or perhaps he's wondering why he's still in camera red. Before throwing him out of a plane. Buonasera, sono la voce sostitutiva di Red. Questa sera farò a mia ragazza, quindi a tal proposito metterò un paio di guanti Mechanics con occhie rinforzate, così da poter prendere a pugni e fare cappou con la testa degli zombie. Io? Mmm, non sono d'accordo. No, la trovo. Adesso ci mancano gli ultimi due componenti, che saranno? Ondina per il tourniquet e... L'ultimo oggetto è il tourniquet, che come ci ha insegnato World War Z, è indispensabile... No, è indispensabile per... Arginare. L'infezione ha soltanto un organo del corpo. No, non è d'accordo. Porca p***a. Sorry boys. I got this one. Ciao a tutti ragazzi, spero che questo speciale Halloween con voce alternativa a disabilità e cromosomi in eccesso vi sia piaciuto. Qui da Red, la voce di Red è tutto. Lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete già fatto. In descrizione trovate tutti quanti i link dei prodotti, delle pagine Instagram del sottoscritto. Non la voce, ma anche quella della voce, del monopoli software. Trovate anche lo shop online, Instagram, Facebook e lo shop online, dove potete acquistare ogni singolo prodotto che vedete addosso, sì. Noi ci vediamo al prossimo video e stay angry. Sembro una disabile, immobile. Se non smetti di dare del disabile che è stata una tua idea questa p***nata, poi dopo rido. Noi ci vediamo al prossimo video.